Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Inclusione sociale. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Inclusione sociale perché dobbiamo aiutare tutti nell'inclusione sociale e perché siamo tutti meritevoli di essere considerati e amati. Quindi ogni persona ha una coscienza e deve poter esclamare di aver vissuto davvero la sensazione gioviale e un ottimo stato vitale. Quindi vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Inclusione sociale. Ogni persona è uguale, vive le nostre stesse emozioni, è uguale a noi sempre e vive le stupende sensazioni. Dobbiamo aiutare tutti nell'inclusione sociale. Tutti siamo meritevoli di essere amati di vero amore. Ogni persona ha una coscienza e deve poter esclamare di aver vissuto con gioviale benemerenza ogni santo attimo vitale. Ogni persona è fonte di vita, è degna di vivere le emozioni. Noi dovremo aiutarla e coinvogliarla sulle strade delle degne attenzioni. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.